Asporsimo con Maglio Di Bazzi del Ligorna. Maglio una partita, un punto su un campo difficile dove molte squadre a mio parere troveranno molta difficoltà. Voi avete giocato una bella partita, a mio parere sei stato il migliore in campo. Dimmi un po' le tue impressioni sulla partita. Sì, come ho già detto prima, sapevamo che l'ora e la mia promossa avrebbero dato tutto e in questi 90 minuti così è stato. Ci hanno messo in difficoltà un po' di più il primo tempo per il campo, per le metrature, ma siamo stati bravi a riprendere subito lo svantaggio. Sicuramente potevamo evitare questi due gol che secondo me erano e potevamo non prenderli. Siamo stati bravi a regolarli e va bene così e pensiamo a Sabato adesso. Ok, grazie. In bocca al lupo per la prossima partita. Ciao, Maglio.